Sicuramente sì, io penso che alla base della buona cucina ci debbano essere prodotti di grande qualità per cui se ci sono questi prodotti sicuramente alla fine di un pranzo non ci si sente male si ci sente abbastanza anche leggeri diciamo, ripeto se si usa un buon olio d'oliva sicuramente il risultato del piatto sarà diverso. Io credo molto anche nella cucina del territorio, chilometro zero, alimenti chilometro zero per cui credo veramente inutile mangiare delle melanzane in inverno che sono semplicemente piene d'acqua, gonfissime, non hanno nessun sapore e costano anche tanto per cui penso che si possa mangiare bene spendendo anche meno usando i prodotti che ci dà la natura in quel momento in quella stagionalità e poi penso che assolutamente bisognerebbe tornare molto alle tradizioni per non arrivare che un ragazzo che oggi ha 20 anni, ha 40, non sappia nemmeno cosa sono le patate fritte in casa ma ormai c'è questo uso secondo me veramente spropositato di prodotti già pronti, già tutti preconfezionati quando invece basterebbe attenersi alla semplicità, ai giusti attrezzi in cucina per poter poi cucinare molto velocemente e avere dei piatti molto buoni io in questo senso mi occupo anche di corsi di cucina proprio per dare delle piccole tecniche per poter cucinare velocemente cose buone grazie